molto bene, la palla rimbalza proprio davanti alla linea di porta e Marchetti non ci arriva che fenomeno, si è alzato il pallone, poi ha caricato il sinistro, all'angolino non era potentissimo Marchetti non se l'aspettava, la tocca ma non riesce ad evitare il 2 a 0 della Juventus tutto sotto il segno di Dybala che ha causato l'autorete di Genesco